A Penne sorgerà la cittadella della Previdenza e del Lavoro, prima in Abruzzo, grazie alla sinergia dei servizi offerti dall'Istituto Previdenziale IMS e dal Centro per l'Impiego di Penne. Questa mattina, nella sala figlia di Orio della provincia di Pescara, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra IMS Abruzzo, Comune di Penne e provincia di Pescara. Presto, nella cittadella della Previdenza e del Lavoro, saranno implementati anche servizi aggiuntivi da parte dell'ASL di Pescara. Ai cittadini di Penne continueranno a essere garantiti l'accesso agli stessi servizi che in precedenza godevano presso la precedente sede dell'Inps e cittadini, imprese e patronati si rivolgeranno per tutti i servizi e avranno risposta. Speriamo, anche grazie a un'organizzazione più agile, di poter soddisfare le loro esigenze anche in tempi di risposta più brevi. Crediamo che la presenza dell'Inps sia un punto importante anche di rilancio della centralità dei paesi all'interno del loro territorio e quindi assolutamente ci tenevamo moltissimo e siamo contenti di questa collaborazione che permetterà una continuità. Se questa è la cittadella praticamente dei servizi, perché dice il centro per l'impiego c'è la sede dell'Inps, abbiamo realizzato anche un altro importante polo che è la cittadella della sicurezza, dove stiamo ospitando i vigili del fuoco, la protezione civile, quindi stiamo aprendo un discorso veramente nuovo, mai visto in precedenza nella nostra area.